La guglia, la sarda, il pesce spada, lo sgombro, il sugherello, prima di tutto bisognerebbe conoscere i tipi di pesce azzurro che popolano il mare di Puglia, poi sapere che fanno bene perché contengono omega 3 e infine riflettere sul fatto che i prodotti a chilometro zero non sono solo quelli della terra, c'è anche il mare. Mittico il progetto finanziato con i fondi europei e del quale capofila la provincia di Lecce vuole incentivare il consumo di questo tipo di pesce. Dai risultati di un'indagine emerso che Alice e Acciuga sono le più conosciute, pesce spada e sgombro seguono. Quel che scoraggia il consumo di questo tipo di pesce sono i tempi di cottura, la falsa percezione di un costo elevato e le difficoltà nel pulire squamellische, falsi mitiche. Mittico vuole sfatare con una guida al consumatore opuscoli su politiche di qualità, un fumetto seminari con i pescatori e incontri di degustazione con i medici. Ci saranno pure sei itinerari turistici denominati le strade del pesce. Una campagna di promozione insomma che attraverserà tutte le province pugliesi con un villaggio itinerante del pesce che partirà da Bari il 26 maggio.